Stanno entrando la Nazionale Attori, attenzione perché veramente abbiamo dei nomi eccezionali Fabrizio, vieni, tu so che farai il tifo per l'altra Nazionale del Diangelo, sicuramente, ti vedo già dal visto Eccola qui, la Nazionale Attori Guarda un po', guarda un po', guarda un po', guarda un po' che succede Bellissima partita, un bel paese, è stata una manifestazione molto bella, lo ricordiamo come un grande attore Una bella manifestazione, adesso faccio dire le parole anche a Edoardo, il mio amico che è messicano Si capisce male quello che dice, però cercherà comunque di parlare di un italiano corretto Ma rimacchia eronico No, no, velocemente, io direi che più che un grande attore, lui era un attore E quindi, a differenza di quanti oggi millantano di essere tali e non lo sono, e non lo saranno mai Per cui viva gli attori come lui e quelli come me che cercano di fare il possibile, di imparare Guardando questi grandi esempi di grande recitazione Grazie